Radio dicono che ha piazzato bombe in tutta Gotham. La città è nel panico. Hanno bisogno di te. Bain ha chiamato Bruca la dottoressa Imbia. Che significa? In spagnolo significa strega. Esattamente, abbiamo scofito Bain, però è stato un po' difficile per me. Oracle, ruga nei computer della città. Tira fuori tutto quello che vuoi. Incattato le lanassi da riper sconfiggere le lezioni del bar. Cavereire scu. La dottoressa Imbia. Quello che riesci a trovare lo analizzo alla Bat Caverna. La Bat Caverna? Sull'isola di Arkham? L'ho preparata anni fa. Per certe situazioni è bene essere sempre pronti. Come hai fatto a mantenere il segreto? Stiamo parlando di me. Tu pensi che la dottoressa Imbia stesse facendo esperimenti sul Vennam? La sostanza che ha trasformato in animale Bain? Sì, e sono preoccupato. Bain era persino più forte del solito. Joker vuole il Venome, questo significa problemi. Sto andando al punto dell'uomo morto a nord di Arkham. Ti contattano appena sono nella varcha nera. Ora andiamo alla varcha nera di un uomo morto. Esatto, l'ho dominato. Esatto, l'ho dominato. Esatto, l'ho dominato. La parte esclusa. izola. Allora. Allora. Pregge. Grazie a tutti 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 Passiamo Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti